Ok, sei pronto? Ti copro io! Ehi! Ah! Il bambino! Addio, bello! Abbiamo interrogato il prigioniero, ispettore. Il bambino è stato portato in Irlanda da Snakehead. Ripeto, in Irlanda. È ora di fare una vacanza! Chiamami in Irlanda! Riporti la testa di Snakehead! Riporti la testa di Snakehead! di Hong Kong. Oh sì, ha appuntamento con il comandante. Nicole. Ispettore Eddie Young. Sapevo che non poteva essercene un altro. Ti trovo bene. Vedo che ti sei ripulito. Grazie. Andiamo? Ne è passato di tempo. Tre mesi. Sono stata assegnata agli esteri. Oh sì, avresti dovuto chiamarmi. Non sapevo che ti avessero trasferita. In Irlanda? Sì. Hai perso qualche battuta Eddie. Ora sono il tramite ufficiale tra l'Interpol locale e tutte le forze di polizia del sud-est asiatico. Se ti fossi fatto vivo come avevi promesso. Nicole, avrei dovuto chiamarti. Mi dispiace. Non è un gran che come scusa. Non è un gran che, ma è qualcosa. di non è un gran che, ma è un gran che, ma è un gran che, ma è un gran che. di non è un gran che. di non è un gran che, ma è un gran che.